Laggiù, dove il sole tramonta maestoso, vediamo le vestigia dell'acquedotto di Claudio. Pure io mi chiamo Claudio! E chi se ne frega, sta zitto quando io insegno, non è ancora ora di ricreazione. Andiamo ragazzi, venite, venitene da presto. Vediamo qui questa pietra di forma esagonale, propria dell'antica pavimentazione romana, detta anche opus incertum. Ma quella è in Sergio. Sì, antico però, una vestigia del passato. Oh, prendiamo questo sassolino, vedete? Ho propriamente brecola, osserviamo negli strati. Sapete che dagli strati noi possiamo scoprire l'età? Fate circolare, fate circolare. Osservate bene gli strati, bambini, eh? Osservo... Oh, è calda, eh? Ah, benissimo. Ci siamo ragazzi, eh? Ci siamo. Sì, sì, non mi sono sbagliato. Ecco, ecco. Eccola qua. Questa è cicoria. Bambini, correte, bambini. Eccoci. Bambini, vedete questa piantina? La vedete? Questa è cicoria. Pianta commestibile, vedete? Osserviamone la struttura. Guardate, butta giù le mani e ti dai una mano. Ce n'è dappertutto. Cercatele e portatemela qui. Sì, sì. Bambini, correte. No, questo è trifoglietto. La cicoria, ho detto. La cicoria, osservate, che vuoi? Un'altra volta. Vai laggiù, va. Valla dietro. Eh, ma pure tu padre, con sta pulga. Avanti, figlioli. Questa è buona, signor maestro. Portatevi la cicoria. Ecco l'insalatina, signor maestro. Oh, do brotago, do brotago, che in montenegrino vuol dire molto bene. Do brotago, do brotago. Questa è niente do brotago. Questa non è buona. Questa è sollecchia d'asino. Quella buona è quella come la mia. Cicori, ho detto. Queste altre erbe non sono comestibili, bambini. State attenti. E cali? E cali? Shhh. È molto che questa voce non giungeva alle mie orecchie. Voce soave, fresca e giovanile. Oh, guarda com'è procace. Ma è una gallina. Già, è un pennuto da cortile. Circondiamolo, figlioli, circondiamolo. Aspetta che scappa. Non facciamolo scappare. Venite dall'altra parte, tante ucce. Prendetemi, venite, figlioli. Oh, questo è detto propriamente pollo. E può anche essere pollo arrosto, pollo alla diavola, pollo alla cacciatora. Eventualmente anche pollo in frecassea, la romana, allo spiedo. Oh, vabbè. Oh, dobro aiuto, fattore, dobro aiuto. Che hai detto? Buongiorno in montenegrino, vero? Sì, ma qui che fai? Io insegnavo, figlioli, questo pennuto da cortile. Qui non insegni proprio a niente perché la gallina è mia. E se non te ne vai ti faccio un grugno così, hai capito? Perché ignoranza è vera. Ci sono i bambini innocenti, ci sono. E poi dice che è un paese civile questo. Già, te lo dico io. Andiamo, bambini, andiamo. Lasciamo il pennuto a questo brutto. Chietta il pennuto. Sì, sì, me lo tengo. E poi dice che c'è la libertà, vero? Già, ma vattene alla destra, va. Non ti può neanche spiegare un pennuto. Gigetto, andiamo, bambini, andiamo. Chietta il pennuto.